Slado! Ce l'ho fatta! Sono viva! Non posso crederci, stavo quasi per soccombere! Questo è niente, paragonato a quello che ho intenzione di farti. Hai fallito, apprendista. Ti avevo ordinato di eliminare i Titans e non l'hai fatto. Ti avevo ordinato di combattere e sei fuggita. Non puoi trattarmi in questo modo. Non posso. Chi altri ti vorrebbe, mia cara? Hai fatto cose orribili, cose imperdonabili. Dove potresti mai andare? Dovunque tranne qui. Sono stufa di combattere e anche di te, se è per questo, Slado! Ritengo improbabile che tu possa andartene. L'interfaccia neurale della tuta è integrata nel tuo sistema nervoso, nella tua pelle. È parte di te. E lo sono anch'io, Terra. No! Hai scelto questa vita, apprendista. È tardi per cambiare idea. Troppo tardi, ormai. Ma non è troppo tardi per uscire da quella porta! Temo di sì, mia cara. Vedi, tu in realtà non hai alcun controllo. Tu riuscire. Hai promesso di combattere al mio fianco per sempre. E questa è una promessa che intendo farti mantenere.